Galà delle grandi occasioni nel pieno centro storico di Cesena. Già in lista lo scorso anno, ma superata da Pescara, la cittadina romagnola ha pienamente superato l'esame di ospitare nella splendida location del Teatro Bonci a Dibito Festa il sorteggio del calendario di Serie B. A dare il via alle danze nel salotto di Daniele Barone e di Letta Leotta di Sky Sport, ci ha pensato un buffet a cui hanno preso parte le massime cariche del settore, come Presidente Abodi, Niki, Tommasi ed esponenti di molte squadre di Serie B. Il Cesena ha schierato Lugarese Urbini Foschi, i due Valentini con Drago e Capelli. Lo start sulla compilazione del calendario lo hanno dato di Letta Leotta insieme ad Abodi, anche se sono serviti tre tentativi di clic sul touchscreen. Nelle 38 settimane complessive e 35 di campionato si disputeranno 5 turni infrasettimanali. Oltre al 24 e il 30 dicembre le novità sono una più ampia sosta invernale, una giornata che si svolgerà a Pasquetta e anche il 25 aprile. La chiusura del torneo avverrà a maggio con le date dei playoff che termineranno a giugno. Senza teste di serie il Cesena ospiterà nella prima giornata il Perugia dell'ex Cristian Bucchi e terminerà sempre a loro Geldino Manuzzi nella 42esima giornata contro la corazzata Elas Verona di Lucatoni.